E' il primo museo demo etno-antropologico del genere, un unicum in Campania e in Italia, inaugurato a Battipaglia presso la masseria settecentesca La Morella, il primo museo della bufala e della mozzarella di bufala del sud. Un viaggio nel tempo tra documenti, foto e testimonianze di una produzione che ha reso la Piana del Sele e la Campania famosa in tutto il mondo. E' una bellissima realtà e qui oggi abbiamo avuto modo anche di vedere quello che è il museo, cioè il percorso, come nasce la mozzarella, come viene lavorata. E sono delle realtà a noi molto care, perché noi abbiamo sempre puntato sulla nostra tradizione, sulla nostra storia. Queste sono realtà e dei percorsi che ovviamente dobbiamo sponsorizzare perché gli alunni, perché le scuole vengono a vedere come nasce Battipaglia. Per la Regione l'occasione è anche per sottolineare la necessità di sostenere un comparto messo a dura prova dalla crisi imposta dalla pandemia. Dobbiamo capire, per apprezzare maggiormente la qualità delle nostre produzioni, dobbiamo anche capire da dove provengono. E qui abbiamo ritrovato davvero un'esperienza unica, dei fatti che dimostrano la cultura della mozzarella e che serve anche a rafforzare un settore, quello della mozzarella di bufala, che sta attraversando un periodo anche critico e che la Regione Campania ha tutto l'interesse e tutta la determinazione di accompagnare verso la risoluzione di queste problematiche.